Sono 512 i nuovi casi positivi al contagio da coronavirus rilevati dal Servizio Sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore. 77 di questi sono sintomatici. Un dato emerso dai 1.725 tamponi effettuati oggi nel percorso nuove diagnosi per un totale di 3.367 tamponi processati comprendendo il percorso guariti. Di questi 113 sono quelli riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino. Il dato complessivo denota un lieve calo rispetto agli ultimi giorni tant'è che scende sotto il 30% la percentuale di incidenza di tamponi positivi sulla quantità totale di test processati. Marche che ora provano a rallentare ulteriormente con l'ordinanza anti-assembramento della Giunta regionale che entra in vigore da domani. Le province che oggi risultano più colpite sono Macerata con 158 casi e Ancona con 145. Pesaro Urbino ne ha contati 113 dopo i 168 di ieri. Numeri a tripla cifra che in questa seconda ondata non si stavano registrando nel pesarese, numeri che però vanno letti oltre le scarne cifre che raccontano piuttosto di un ritardo nel processare i tamponi con test accumulatisi nel laboratorio pesarese di Marche Nord che ora sta esaminando anche i dati delle strutture di Fermo e Civitanova fornendo supporto sui tamponi. Diminuiscono i contagi ma si alzano i ricoveri. Sono 623 i pazienti registrati oggi nelle strutture ospedaliere marchigiane, cioè una crescita di 19 unità rispetto a ieri. Soprattutto salgono a 81 i ricoveri in terapia intensiva, tre in più rispetto al giorno precedente. Intanto la sanità continua a mescolarsi con la politica, con scelte non sempre gradite, come a Cagli dove l'ospedale diventa presidio covid destinato ad ospitare 30 malati contagiati da coronavirus in una decisione che ha fatto storcere il naso al sindaco Alessandri per il mancato coinvolgimento del comune nella decisione arrivata dalla giunta regionale. Discorso simile a Macerata Feltri ha convertito in centro covid pochi giorni prima. Dall'entroterra alla costa altro scontro politico sanitario, quello sull'ospedale unico stoppato dai pareri del consiglio regionale ma sul quale il centro-sinistra non molla e intende dare battaglia. A cominciare dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha organizzato per domani alle 15 un presidio all'ospedale di Muraglia.